Ha patteggiato un anno di reclusione per Stolkin con la sospensione della pena. Lui è un operaio vicino alla Cinquantina, peraltro già arrestato dai carabinieri per una violenta lite con l'ex compagna, il quale in un periodo di difficoltà era stato ospitato in casa di un'amica, un'amica alla quale si era dichiarato senza però essere corrisposto. Rifiuto che ha scatenato un atteggiamento aggressivo, condito da minacce, messaggi sul cellulare e appostamenti, culminato addirittura con un incendio appiccato alla porta della casa di lei. Scontati gli arresti domiciliari, l'uomo era tornato alla carica fino ad una nuova denuncia che ha portato all'ultima condanna.